Un benvenuto da parte di Biagio Mannino. Cambiamento o continuità? Questo è il quesito dominante che caratterizzerà la politica internazionale da qui alla fine dell'anno. Appuntamenti elettorali in Italia negli Stati Uniti ma anche il ventissimo congresso del partito comunista cinese. In Italia le elezioni particolarmente importanti sanciranno se la linea politica sarà quella come detto della continuità oppure del cambiamento. Dopo la conclusione del governo Draghi gli interrogativi in Italia non mancano soprattutto su quale sarà la nuova maggioranza. Quello che è da sottolineare è che la legge elettorale italiana di fatto pone di fronte ai risultati che difficilmente possono portare ad una maggioranza effettiva senza passare attraverso una politica di alleanze. Elezioni in Italia tenute sotto grande osservazione e valutazione anche perché il ruolo dell'Italia nel contesto del panorama della politica internazionale non è affatto marginale, anzi al contrario. L'Italia si trova in una posizione geografica fondamentale inserita al centro del Mediterraneo in diretto contatto con l'Europa centrale che guarda tre continenti, come detto appunto l'Europa, contemporaneamente l'Asia e l'Africa. Una posizione assolutamente strategica, un ruolo fondamentale in tutti gli equilibri mondiali, da qui l'importanza del risultato delle elezioni in Italia. Contemporaneamente in Cina, in Cina si avvicina il ventesimo congresso del partito comunista cinese che dovrebbe portare alla riconferma di Xi Jinping anche se i dubbi sono molti. La certezza che questo avvenga non c'è più rispetto a soltanto pochi mesi fa Xi Jinping è messo sostanzialmente in discussione all'interno dello stesso partito comunista cinese. Nel 2018 la costituzione veniva modificata andando a eliminare il vincolo del doppio mandato. In quel momento per Xi Jinping la strada sembrava spianata nella direzione del terzo mandato, qualcuno diceva addirittura verso una presidenza sostanzialmente eterna. Ma è altrettanto vero che le vicende ci sono state, il 2020 in particolare, la pandemia che da Wuhan partiva, ebbene tutto questo ha messo in evidenza delle problematiche anche interne, problematiche nell'ambito della politica estera nella forte contrapposizione crescente con gli Stati Uniti nel momento in cui la nuova geopolitica si mostrava nel post 2020, ma contemporaneamente problematiche interne come una fondamentale ovvero quella della decrescita demografica, dell'invecchiamento della popolazione e sostanzialmente di una situazione economica che pone le basi per problemi futuri. È altrettanto vero che la corsa della Repubblica Popolare Cinese nel contesto globale per l'affermazione nei diversi ruoli, soprattutto quelli economici e finanziari, non si è affatto fermato. Il 2032 resta l'anno che dovrebbe vedere l'economia cinese raggiungere il primo posto nel contesto globale andando superare proprio quella degli Stati Uniti. Anche gli Stati Uniti si trovano alla vigilia, alla vigilia di quelle elezioni di mid-term così importanti per il proseguio del lavoro di Joe Biden. Le elezioni di mid-term ovvero il rinnovo parziale del congresso, ma è altrettanto vero che attualmente la maggioranza per il Partito Democratico di fatto è estremamente limitata e soprattutto debole. Il rischio concreto che possa esserci un superamento nell'ambito del congresso da parte del Partito Repubblicano c'è, ponendo poi di fatto la politica di Joe Biden di fronte a le problematiche negli ultimi due anni, ma soprattutto in vista delle prossime elezioni presidenziali. I problemi, come detto, non mancano. L'amministrazione di Joe Biden sostanzialmente ha portato a una situazione di grande criticità, soprattutto nell'ambito della strutturazione economica e finanziaria, in nome di una politica estera particolarmente aggressiva nel contesto globale. La perdita di posizioni da parte degli Stati Uniti nell'ambito della geopolitica internazionale si è vista negli ultimi anni, soprattutto nel corso dell'amministrazione di Donald Trump, ma contemporaneamente altrettanto vero che da parte dell'amministrazione successiva, appunto quella di Joe Biden, si sono adottate delle linee di forte contrapposizione, due linee in particolare nei confronti della Russia e nei confronti della Cina, contrapposizioni che stanno portando agli effetti che stiamo vivendo e sostanzialmente quell'aumento delle risorse energetiche che sta caratterizzando il contesto globale, sta ponendo anche il mondo di fronte a una nuova crisi, una nuova crisi che colpisce soprattutto il cittadino globale. Per oggi questo è tutto.